salva un amico ci ha portato oggi al parco canile della val basca di como canile di proprietà dell'empa siamo con marco silvia e la nostra piccolissima mia sì mia è una cucciolona di un anno perché ancora cucciolona è una pitbullina proveniente da da como como città e l'abbiamo recuperata insieme alla polizia locale da una situazione di maltrattamento perché era tenuta veramente male è una cane buono con le persone grazie a dio il maltrattamento non l'ha condizionata nel rapporto con le persone quindi è brava e socievole salta addosso dai baci ti da più atto delle facciate più che dei baci è un cane che ha bisogno sicuramente di di tanto tempo di di attenzioni lo vedete però che un cane che non ha nessun tipo di problema di aggressività lei con gli altri cani si comporta diciamo generalmente tranquillamente non è aggressiva è in box con un altro cane molto socievole molto equilibrato che che l'aiuta anche a calmarsi è un po possessiva sul cibo perché essendo molto golosa lei tende molto a a prendere tutto il cibo che c'è tutto mio lei ragiona così e l'altro come buono accetta accetta di buon grado che lei gli freghi magari il biscotto gli freghi il pezzo di carne secca da masticare quale sarebbe la sua adozione ideale ma allora lei quando è stata portata via dal maltrattamento viveva praticamente in una famiglia c'erano anche dei ragazzini quindi non ha problemi neanche con bambini e con ragazzini magari essendo così esuberante magari proprio bambini piccolissimi può essere un problema solo se può dare una spinta può giocando farli cadere ma non non a livello di aggressività speriamo dunque che anche la nostra piccola mia trovi presto una casa salva un amico termina qui al prossimo appuntamento dedicato agli amici a quattro zampe per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il canile della valbasca al numero 031 54 29 26 oppure inviare